ciao ragazzi continuiamo il tutorial sulla topologia ecco nel frattempo ho completato ho completato il tutto ecco quando è completo a questo punto facciamo così geometria portiamo la nostra suddivisione a 1 in questa maniera poi andiamo in adaptive skin clicchiamo make adaptive skin ecco selezioniamo quello che abbiamo creato make skin ecco così poi clicchiamo la tastiera x così attiviamo la simmetria e andiamo in sempre in geometri andiamo nella in curi mesh nel modificatore curi mesh ecco clicchiamo attiviamo automask se non attiviamo vi fa casino dovete attivare automask così questi slide li lasciamo così in predefinita se no fa un pacciugo ecco e poi andremo a cliccare curi mesh io adesso non ci vado a cliccare sopra perché perché ci mette un po di tempo voi cliccate sopra ci cliccate finisce il finisce il procedimento e vi faccio vedere al prossimo tutorial come come continuiamo dopo avendo cliccato su curi mesh ok ci vediamo al prossimo ciao a tutti